che ci fai vedere oggi? come si addestra, che cosa sa fare il mio cane? allora, come vedete un grande ippone è agitato perché ho un chicco a forma di tarlo in mano quindi è molto agitato e ora vi farò vedere che cosa sa fare il mio cane allora, lo farò stare seduto e se possiamo appena senti la parola seduto si metti seduto brava seduto bravissima e se possiamo gli facciamo saltare un ostacolo qualcosa facciamo solo il seduto oggi, dai poi dopo su un altro video vi farò vedere tutto perché come vedete siamo in garage, è un po' sporco seduto più che altro c'è poco spazio questo è il seduto bravissima ciao al prossimo video ciao 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 ciao